Non volevamo essere la marina ma volevamo essere i pirati. Bene ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, ovviamente il video con la B di Bitcoin davanti a noi perché il re delle criptovalute nel weekend attuale è riuscito a superare la sua resistenza che era intorno ad aria 38.000 e circa 38.000 e qualcosa. Superando questa resistenza è riuscito poi ad avvicinarsi ai 40, rompere i 40 e poi ovviamente sciacquone per via delle liquidazioni degli short eccetera e siamo arrivati proprio in questo momento mentre sto registrando il video, oggi sarà una giornata di volatilità, lo sto registrando di mattina quindi questo poi uscirà pomeriggio ragazzi, però siamo arrivati intorno a quota 42.000 dollari. Allora, se vi dice che si può fare un calcolo statistico che ci può indicare dove siamo diretti, a quale target price. come Bitcoin nei prossimi giorni e che lo faremo oggi utilizzando questo grafico di Bitcoin, che cosa ne pensate? Ed era questo il target ragazzi di cui parlavo nel video di ottobre 2023 per quanto riguarda dicembre, novembre dicembre del 2023. I massimi dell'anno 2023 per Bitcoin, 40.000 dollari era il primo target che veniva fuori da quel video ragazzi che chi di voi non l'ha visto ma è stato un video stravisto in ogni caso, ve lo lascio in descrizione. Da questa zona qui noi abbiamo raggiunto quelli che sono i target per l'anno 2023 che c'eravamo prefissati. Ora, da qui in poi tutto fa brodo come si suol dire. Bitcoin quindi finisce la sua fase rialzista, il suo impulso rialzista. No, lo vediamo nel video di oggi. Bitcoin Mondays benvenuti a news, analisi ciclica, analisi tecnica, la cripto del giorno e alcune chicche che bisogna vedere perché questa struttura, questo impulso di Bitcoin deriva sostanzialmente da una tempesta perfetta che si sta andando a creare. Ma tempesta perfetta ragazzi di cui abbiamo parlato per tutto il trimestre da settembre a dicembre, cioè questi mesi qui da settembre che sto martellandovi la testa relativamente al fatto che questa fase era un po' già direzionata perché l'analisi ciclica aveva dato dei dettagli e dei segnali assolutamente importantissimi. Partiamo però come sempre all'inizio del nostro Bitcoin Mondays da quelle che sono le analisi delle news macroeconomiche attese per questa settimana. Non ci sono in sostanza delle news rilevanti ma tutto il mercato si è focalizzato per lo più sulla questione legata alla tasso di interesse che comunque anche quella avevamo sviscerato in maniera importante nei mesi scorsi parlando del fatto che i tassi di interesse avrebbero raggiunto l'apice tra dicembre e gennaio 2024, in realtà è stato raggiunto prima, quindi il mercato ha un po' accelerato in maniera positiva da questo punto di vista perché l'accelerazione, diciamo il raggiungimento del target del tasso di interesse della Banca Centrale Europea e della Banca Centrale Americana ha dato l'idea che appunto questi tassi possono poi essere un po' ridursi ecco in pratica più velocemente. Quindi sembra infatti che già ci sia una leggera propensione per i trimestri a venire verso marzo ad un decremento del tasso intorno al 52%. Io non la vedo così, secondo me marzo non è una data buona per un decremento del tasso, però sicuramente anche se non è marzo sarà il successivo, quindi magari maggio però in pratica ragazzi non cambia la logica di fondo perché un quarto di punto che viene tagliato dai tassi di interesse non è un grande cambiamento. Quello che è il grande cambiamento è l'atteggiamento della Banca Centrale che è riuscita sia l'europea che l'americana a controllare il tasso di inflazione e quindi riportarlo vicino al suo target equilibrio il 2%, perciò in pratica l'anno 2024 è un anno di tirata di respiro, di sollievo, cioè un respiro di sollievo perché altrimenti le cose diventavano veramente un po' terribili. Poi la narrativa per l'anno 2024 soprattutto da marzo in poi sarà la questione recessiva o meno, impatto o meno, non impatto su Bitcoin eccetera, questo poi si vedrà. Da un punto di vista dati economici quelli importanti per questa settimana richiesta di sussidi di disoccupazione, come sempre ma scarso impatto da un punto di vista di mercato, non c'è granché per quanto riguarda gli altri indicatori, anche perché abbiamo visto il tasso di bill americano essere stellare in questo quarter, e poi il tasso di disoccupazione venerdì 8 dicembre che però è atteso ancora simile al precedente, quindi lontano dai target che in questo caso sono in aumento, intorno a 4,5%, 4,3% dovrebbero essere raggiunti il prossimo anno. Detto questo passerei direttamente all'analisi di quello che è successo su Bitcoin, la tempesta perfetta su Bitcoin ragazzi, perché primo abbiamo la questione del ETF, narrativa che ha indirizzato tutto quello che è questa fase di mercato, vi faccio vedere anche un grafico molto molto importante che pone il concetto di che cosa è successo da quando in pratica BlackRock ha presentato la sua domanda per l'ETF. Allora qui la linea zero di demarcazione che vedete è il timing in cui BlackRock a giugno del 2023 presenta la domanda per il suo ETF e quello che è successo è quello che state vedendo in questo momento, quindi una fase di ritracciamento della candela che era stata un'impennata in sostanza dovuta alla presentazione dell'ETF, tutto questo sono candele di natura quickly, quindi una candela sola è stata riassorbita in un lasso temporale importante perché siamo stati in pratica da giugno a settembre, quindi 84 giorni, un trimestrale, interamente a tentare di riassorbire il pump che era avvenuto con la presentazione della domanda dell'ETF di Bitcoin, pensate un po' ragazzi, quindi una settimana riassorbita in tre mesi, dopodiché da qui è iniziata la teoricamente seconda parte del ciclo annuale di Bitcoin o una parte ternaria di un ciclo biannuale diviso a tre tempi di Bitcoin che in ogni caso ha tirato su quelli che sono i massimi. Ora, la struttura dell'estensione dalla presentazione della domanda di BlackRock per quanto riguarda più o meno, ecco non so lì a farvi il conto proprio preciso, ma sono più 70% circa, più 66%. Tra le altre cose, Bitcoin in questa fase è uno degli asset più performanti, se non il migliore, poi faremo a dicembre il controllo, 172% la performance dai minimi del ciclo annuale di novembre e dalla zona di gennaio un pochino di meno, quindi da inizio 2023 dovrebbe essere circa un 155%, anche lì non sono i numeri in dettaglio, ma giusto per darvi un'idea precisa. Allora, questa fase da un punto di vista ciclico lascia un grande punto interrogativo, ci stiamo avvicinando ai massimi dell'anno 2023, questo quasi sicuramente sì, anche perché siamo a dicembre, però ci stiamo anche avvicinando ai massimi di questa fase di ciclo annuale di Bitcoin, sì, probabilmente se la struttura ciclica è di natura binaria, ma di questo ne parliamo mercoledì perché voglio fare un video esclusivo dedicato solo all'analisi di lungo periodo, riposizioniamo tutto quello che c'è da fare dopo il raggiungimento dei nostri target dell'anno 2023 intorno ai 40.000, 40.000 toccati e superati, andiamo a vedere che cosa può succedere e ci spostiamo un pochino più in là. Vi dico già da subito che sarà molto più difficile di quello che abbiamo fatto adesso perché quello che abbiamo fatto adesso era più semplice, anche per questo mi ero spinto con quel video diciamo sulla previsione di Bitcoin ragazzi, perché ovviamente insomma era a livello tecnico più semplice, questa fase di risalita. La prossima è più complessa per una serie di motivi, vi dico mercoledì, quindi mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, anzi intanto io vi ringrazio ragazzi anche per tutto l'affetto che mi dimostrate, anche perché il canale sta andando molto bene anche in questi mesi, quindi grazie di cuore anche per questo fly to the quality direi, sulle cose che hanno valore hanno importanza ed è molto bello anche per me, insomma, perché vi parlo di cose complesse, ogni giorno stare a vedere che comunque i numeri aumentano, ci sono tanti views e sono molto contento di questo perché le cose complesse non sono facili da assorbire per moltissimi. Allora, questa fase, dov'è il grafico? Me lo sono perso, che volevo farvi vedere, eccolo qui. Allora, dove siamo arrivati? Che cosa sta succedendo? Settimana scorsa avevamo parlato di una eventuale fase di buy the dip all'interno di questo quadratone che non è stata toccata, come sempre avviene direi quando i mercati sono molto forti, ma è stata sguicciata, guardate qui, proprio nella giornata di lunedì che è stato toccato questo livello di 36,7 quando io vi avevo indicato più o meno 36,5, 36,6 il livello iniziale del buy the dip. Beh, ragazzi, allora, in questo contesto era poi difficile magari avere dei buy the dip e si doveva passare alla seconda possibilità di ingresso, cioè il breakout dei livelli di resistenza. Quindi vi avevo indicato quello nel video di lunedì, nel precedente Bitcoin Monday, andatelo a rivedere, però lunedì scorso. Allora, in questa fase qui io personalmente non l'ho utilizzata da un punto di vista di strategia di breve. sono posizionato full al 100% con quelle long, quindi non mi interessa proprio, ve lo dico francamente, più di tanto la parte del trading di questa fase, anche perché mi sto concentrando di più sul fare cripto picking su alcune criptovalute, in quanto in Academy stiamo cercando di costruire due portafogli cripto differenti, con due logiche differenti che debbano avere l'obiettivo di cavalcare un'eventuale fase di alt season nel prossimo anno, quindi siamo già full long su Bitcoin, io personalmente molto di più degli anni precedenti, tra le altre cose, e insomma non aver fatto il trade finale qui mi dispiace tanto e non quanto. C'è da dire che avendo una beta testing su uno dei nostri bot che utilizziamo in Academy, che in questo momento stiamo testando con una trentina di persone circa, per vedere se funziona in maniera automatizzata, siamo riusciti a fare una piattaforma insomma dove diamo agli utenti la possibilità di azionare e disattivare questi botti in maniera automatica, io seguendo quel bot, quel bot lì è long, invece è fatto tutto il trade, ma quello è un esperimento, quindi non è corretto ragionare in termini di posizione strutturata, perché quella è un esperimento che sto facendo perché do la possibilità di usare il mio conto per vedere se a livello informatico funziona bene, siamo stati fortunati da questo punto di vista, quindi semplicemente cavalcare un trend di questo tipo è insomma la fortuna in questo caso, però è long da questa zona mi pare intorno ai 37 qualcosa, poi ha fatto due uscite rientrate perché è un bot di brevissimo termine, 15 minuti ragiona ragazzi, quindi ovviamente insomma è trading puro, però questa fase a livello proprio di strategia settimanale non l'ho cavalcata perché non sono riuscito a entrare per diversi motivi, anche perché non mi ha toccato questa fase di dip di cui vi parlavo in maniera costicua, vi voglio sempre vedere dei livelli di ingresso prudenziali. Allora cosa è successo? Con grandissima probabilità il ciclo trimestrale di bitcoin si è concluso sul minimo del 22 di novembre 2023, quindi qui siamo probabilmente in una nuova fase ciclica, in un nuovo trimestrale di bitcoin, 72 giorni è andato a fare esattamente quello di cui vi avevo parlato, cioè l'idea che facesse un, due mensili, un mensile corto e un mensile lungo che chiudesse anche il trimestrale. Era talmente forte bitcoin che poteva fare questa cosa. Io l'ho cavalcata questa idea ed era infatti, vedete anche che il mensile era stato posizionato a 42 ed è il motivo per il quale diciamo non mi sono neanche preoccupato di andare a prendere posizioni perché eravamo già full long con l'holding e semplicemente non ho chiuso niente. Questa è stata la mia strategia al momento, cioè non andare a prendere profitto nonostante ragazzi siamo long da 28.000 circa, adesso non ricordo bene, insomma con quest'ultima fase, poi ovviamente le precedenti le avevamo fatte nei mesi scorsi. Non ho preso profitto perché credevo in questa views, cioè dei due mensili, uno corto e uno lungo e che andassero a chiudere un trimestrale un po' più corto rispetto al solito proprio perché avevamo necessità di avere un hype di bitcoin perché per la prima decada e metà di dicembre dovevamo andare a fare un massimo di bitcoin che era quello sempre presente all'interno di quella previsione. Tutto a filato liscio, non è sempre così magari, sempre così però in questo caso ragazzi siamo riusciti a cavalcare. Poi con la strategia, la gestione delle posizioni ovviamente ragazzi si riesce a fare tanto, 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 ok? Questo è un anno sicuramente top per tutta la nostra operatività però in linea di massima si impara sempre, questo c'è da dire, non è un caso insomma che questo è un anno top perché è anche dovuto al fatto che tante cose sono migliorate, lavoriamo in squadra, insomma ci sono tante cose che poi fanno migliorare l'operatività, io sono oltre vent'anni vi assicuro si impara sempre costantemente. Allora in questa fase qui a livello ciclico probabilmente siamo in una struttura ciclica trimestrale e quindi qui stiamo andando a delineare un nuovo ciclo mensile che io a questo punto mi posiziono intorno ai 30 giorni classici, qui saremo vicini alla metà. Ora il mercato qui potrebbe fare semplicemente una ulteriore fase di pump e poi andare a chiudere il bisettimanale intorno più o meno alla fine di questa settimana per prendere un po' di fiato, a quel punto non è detto che noi non andiamo addirittura, se fa una cosa del genere, sempre se questo mensile è un binario, cioè diviso a due, perché se non è diviso a due ma è ternario, continuerà a salire facendo un massimo al centro e poi andrà a ritornare. Poi vi ripeto non c'è una grande operatività da fare perché se siete old e siete già long dovete stare semplicemente fermi, quindi insomma anche per questo non è a livello di trading, adesso poi magari vediamo delle operazioni più veloci, però qui c'è stata una struttura a cinque giorni di un ciclo di natura settimanale piccolo, oppure otto giorni se lo considerate così, non ci sono vincoli quindi vangono bene entrambi, oppure se vogliamo considerare due cicli settimanali, uno corto e uno lungo, dobbiamo arrivare intorno al quindici, probabilmente dove andremo a chiudere questo settimanale. Questa significa che un po' è possibile che questa candelona gigantesca della giornata di oggi venga ritracciata nel breve periodo per un pezzettino, breve periodo intendo un paio di giorni. Questo ritracciamento potrebbe essere un utile punto di ingresso di trading, ovviamente non di position di altro tipo, ho sbagliato la struttura, ok vediamo un po', no era giusto. Ok, allora qui significa che potremmo fare appunto ritracciamento anche intorno alla zona di 41-40.800, questa zona qui, è ritracciare nei giorni prossimi questa candela che è una candela long green candle che è importante per anche la tenuta del trend, cioè fare un paio di giorni di ritracciamento così, anche perché abbiamo raggiunto uno dei livelli importanti anche di target, ma già vi faccio vedere quello che è un altro grafico, che è questo qui con il livello di target vero per questa fase, una volta superato lo scoglio dei 38-40.000 dollari, è 46 ragazzi, perché poi avevamo 42.000, perché è la struttura centrale di questa barra di oscillazione, ma al di fuori di questa zona il successivo target, se le cose dovessero addirittura essere molto più floride, qui vedete c'è la struttura di congestione, e poi 46.000 dollari, che a quel punto rappresenta uno scoglio importantissimo e che bisogna andare a vedere, insomma se il mercato riuscirà addirittura a superarlo. Rompere addirittura questo livello significherebbe entrare in una burran molto importante, ci sarebbe una forte riflessività e l'avvicinarsi dei 60.000 sarebbe dietro l'angolo, ve lo dico. Non mi piacerebbe vedere una cosa del genere in maniera forte, però sicuramente se dovesse arrivare una notizia nell'immediato, vi ricordo che fra un mesetto ci sono le prime news sull'ETF, anche se secondo me potremmo essere stupiti da quello, ma non cambierebbe comunque la narrativa, perché ci sono diversi incontri di BlackRock con la SEC per decidere delle modifiche che sono state già fatte, quindi in pratica si sta tentando di creare le basi per avere l'approvazione dell'ETF, non è il faccio la guerra, quindi secondo me questa cosa è un po' già nell'aria, allora dovesse effettivamente avvenire nei prossimi giorni, qui secondo me facciamo un pump sicuro. Attenzione quindi a quest'aria, qui siamo nella terra di nessuno, una volta raggiunto questo target il mercato potrebbe un pochettino, diciamo, chiudere queste strutture cicliche. Da qui in poi, da questa giovedì, insomma, venerdì questa zona qui, se dovesse farlo ragazzi, attenzione perché nulla vieta appunto di continuare a fare poi il break di questa zona, arrivare qui, quindi intorno a 46, prima di chiudere il ciclo mensile che dovrebbe essere verso Natale del 2023. È probabile che questo ciclo mensile faccia anche il massimo del ciclo annuale di Bitcoin, lo vediamo mercoledì, che facciamo il video special immancabile ragazzi, non so ancora se faccio una live in diretta per stare tutti insieme proprio su questa cosa, poi ragiono perché dipende anche dai impegni, a volte è difficile fare le live. Andiamo a vedere la criptovaluta invece della settimana che è Eagle perché ve l'avevo promessa anche precedentemente, è una cripto che io sto utilizzando anche nei miei portafogli, non è la cripto principale in questo momento perché il portafoglio cripto per 24, l'ho chiamato così, è in fase di formazione, in questo momento la fa da padrona un po' rune anche perché è salita tantissimo quindi più che altro penso ma per quel motivo lì, quindi ha guadagnato, non è stato fatto un ribilanciamento dell'investimento e quindi è salita tanto. Allora andiamo a vedere la struttura ciclica di Eagle e vediamo che cosa sta facendo. Posizionata molto bene, questa criptovaluta è interessantissima e anche abbastanza volatile, è andata a fare due strutture di cicli annuali ribassisti che vedete in questa fase è andata a concludere probabilmente il suo ciclo del bear market intorno a ottobre e settembre del 2023, quindi come molte criptovalute si è fatta un altro anno ribassista rispetto a Bitcoin ed è andata appunto a chiudersi questa struttura ciclica. Considerate che Bitcoin ha chiuso il ciclo annuale a novembre, quindi in questa zona e da qui è solo salito e quindi ha fatto in pratica questa cosa così, mentre altre cripto non è solo Eagle sono scese, questo segno anche di come il mercato cripto ancora non è maturo per iniziare una fase di alzisono, però si vedono gli atteggiamenti diciamo importanti iniziali, soprattutto perché questa fase ciclica annuale di Eagle è importante perché ha avuto un grande sviluppo proprio nel suo primo ciclo trimestrale, ciclo trimestrale che dai minimi in pratica ha fatto il più 130%, ora non è che siamo stellari rispetto ad altre criptovalute che abbiamo visto Rune appunto fare numeri stellari, 600 e passa per cento eccetera, però sicuramente è interessante, me l'avete richiesta tra le altre cose nel mio commento Twitter, a proposito lo rifarò anche questa settimana, vi lascio il link di Twitter in o X, insomma del nuovo social X di non maschi, descrizione così ragazzi potete seguire anche quello che combiniamo là, qualche sondaggio eccetera, le news e ogni tanto tiro fuori qualche analisi dal cilindro, vi lascio il link per quanto riguarda anche il mio canale X, questa zona qui è iniziato anche un altro trimestrale, il 21 di novembre quindi anche su Eagle abbiamo il 21 novembre inizio del nuovo trimestrale che sta sviluppandosi in due strutture, in una struttura semestrale e settimanale in questo caso da nove giorni, poi dopodiché dovrà andare insomma nel suo classico mensile. Allora ha incontrato il primo scoglio a 50 che è importante, vi ho segnato anche le successive resistenze per questa criptovaluta, 58 la successiva, 67 è quella più importante, anche qui secondo me la possibilità che vada a breccare ed entrare in questo quadratone gigante, rettangolone gigante, è abbastanza probabile, quindi il breakout secondo me dei 50 potrebbe avvenire con una buona probabilità. Attenzione perché sopra i 67 si entra in una fase completamente diversa perché finora quello che ha fatto Eagle è andare a ritracciare il massimo del semestrale qui di questo ciclo annuale precedente ribassista, lo ha toccato, ma qui è il massimo del precedente annuale, quindi andare a breccare questo massimo qui indicherebbe anche ribaltare tutta questa struttura ciclica ribassista e quindi dare, avere slancio per fare una nuova fase di cui poi bisognerà andare a parlare, ovviamente io qui ho esagerato con le linee, però questi sono i livelli di target e ci sono anche i livelli di supporto che sono in questo momento il più vicino e molto lontano, insomma sono e 40 39, c'è anche un altro livello di supporto che è questo mezzano del ciclo 13 che è stato chiuso qualche giorno fa, che è questo qui, è un ciclo meno importante però è 42, però è un livello che non dovrebbe essere toccato all'interno di questo mensile, quindi se già 42 scricchiola c'è qualcosa che non va in questa view e andrebbe poi rivista, quindi al momento cripto della settimana e gold, questa la struttura, cosa ne pensate voi invece della grande grande oscurata di questa fase perché parliamoci chiaro, è oscurata da due diciamo movimenti differenti, uno la stratosferica forza di bitcoin, due movimenti pronunciati di alcune criptovalute che hanno avuto app più importanti e la grande oscurata ragazzi si chiama ethereum, ethereum che ancora continua ad avere difficoltà nei confronti di bitcoin, troppa forze e questa cosa è un po' importante ed è soprattutto segno che c'è qualcosa che non funziona come dovrebbe secondo me anche in questa fase temporale anche di questo dovremmo parlarne, rapporto di cambio ethereum bitcoin ancora in trend ribassista soprattutto non riesce a uscire da questa struttura importante la tenuta di 0,055, scusate 0,053, non so perché qui è segnato 55, è spagliato ok è successo qualcosa, adesso lo cambiamo ed è molto importante perché questa è una fase in cui la struttura di eth dovrebbe teoricamente iniziare una nuova fase ciclica, se non lo fa in questa parte c'è da mettere due puntini e fare una nuova analisi perché significa che qualcosa non funziona come dovrebbe, c'è un ciclo quadrennale di eth che probabilmente ancora non si è chiuso a quel punto quindi nulla vieta di assistere a un ciclo ancora ribassista di ethereum o contro bitcoin proprio magari in concomitanza con un'eventuale approvazione dell'etf di bitcoin, da lì magari poi si potrà parlare ma questo è diciamo il dilemma no? ethereum, what's happened? no, cosa sta succedendo? va bene ragazzi ci vediamo mercoledì, buon inizio settimana a tutti e ovviamente forza bitcoin dove sei finito? la moneta, la moneta ciao ragazzi